Sono in largo del Nazareno, qui dietro c'è la direzione del PD, oggi un po' meno affollata del solito, praticamente sono scomparsi i renziani, c'è una caduta improvvisa, tutti si definiscono della minoranza PD, non si vede più e in effetti non ne sono arrivati nemmeno molti in direzione. Sono lei che cosa succede oggi in direzione e sarà lasciata la segreteria anche dal... Io penso che non sia utile questo passo, ho ascoltato come tutti un'ipotesi di questo genere, non lo tengo opportuno. Eccone una! E qui non c'è più Matteo, sono diventati tutti della minoranza. Dati un bacio! E come no? Ambitissimo! Ah allora non dovevo dire ambitissimo! Non c'è allora lui? No, non c'è, non c'è e infatti tutti quelli che si trovano sono tutti della minoranza, improvvisamente. Ci sono conversioni in questo momento. Io come maggioranza sono in questo momento una minoranza. Una minoranza assoluta, assoluta. E beh c'è un po' di gloria per tutti così. Eh così domani, a le due c'è un convegno sullo sport. Eh ma qui alle due devono andare a parlare a Gentiloni. Domani vediamo a mezzogiorno l'assemblea del gruppo, facciamo un po' di bucate. Adesso iniziando, c'è Orfini qui che sta iniziando. Grazie, buon lavoro! Buon lavoro!